vediamo se Marco Motta si rialza oppure no fallo c'era però vediamo Motta e biede stai libero tranquillo entro a cambiasso sull'arbitro d'occhi andiamo a rivedere lo favorisce però la difesa di Zona Rosso che se ne va con Benet Stanko e se lo mette giù Stankovic per me esce Stankovic esce per me Stankovic esce non ce la fa più e al suo posto potrebbe entrare adesso va in cambiasso nel momento ci mangia due punti in questa maniera rimaniamo comunque stati in classifica più 5 non ha niente non ha niente guardate conto fino al 5 in piedi meno addirittura meno addirittura eccolo là si tocca è un po' di finta ragazzi c'è i valotelli quelli della Roma andiamo a rivedere guardate c'è il tocco si rotola fuori Grazie a tutti.